Nel corso dei suoi quasi sette secoli di storia, l'Università di Pavia ha testimoniato molte volte la capacità dell'uomo di raggiungere nuovi traguardi, di superare i confini del noto, di gettare per la prima volta lo sguardo nel futuro. Non c'è nessun altro luogo in Lombardia dove la storia delle discipline medico-biologiche sia stata più densa di avvenimenti e di personaggi che sono icone del genio umano. Con il professore di medicina Marcantonio della Torre collaborò Leonardo da Vinci raffigurando in maniera mirabile le strutture nascoste del corpo. Durante la seconda metà del Settecento il naturalista Lazzaro Spallanzani si proiettò ai confini della vita studiando fenomeni misteriosi come la generazione, la riproduzione degli esseri viventi e la vita letargica, oltre alla respirazione e alla digestione. Influenzato da Spallanzani fu l'odigiano Agostino Bassi che per primo fornì la dimostrazione sperimentale della natura microbica di una malattia infettiva animale. Vale la pena ricordare che lui Pasteur teneva nel suo studio il ritratto di Spallanzani e apprezzava le opere di Bassi che citò nelle sue pubblicazioni. Spallanzani era collega del grande anatomista Antonio Scarpa che ha dato il nome ad almeno una decina di strutture corporee da lui studiate o caratterizzate con precisione per la prima volta. A Pavia l'ostetrico Edoardo Porro mise a punto nel 1876 un intervento di taglio cesareo che permise di programmare la salvezza non soltanto del bambino come capitava fino a quell'anno ma anche della madre. Nell'Ateneo Pavese insegnò Camillo Golgi che svelò per la prima volta la struttura più complessa dell'universo conosciuto, il cervello, grazie a un metodo che contribuì alla fondazione delle moderne neuroscienze e che gli valse primo italiano il premio Nobel assegnatogli nel 1906. Golgi fu anche un rivoluzionario nel campo della citologia scoprendo il cosiddetto apparato di Golgi uno dei mattoni fondamentali della cellula per il quale è fra gli scienziati più menzionati nella letteratura biomedica internazionale. Nel corso del novecento Vittorio Erspamer scoprì a Pavia la serotonina che poi si rivelerà neurotrasmettitore centrale in molti processi neuropsichici dal controllo del tono dell'umore e della funzione alimentare al ritmo sonoveglia. Una riduzione del sistema serotoninergico è stato correlato al disturbo ossessivo compulsivo. A Pavia è fiorita l'ematologia italiana, la scuola di Adolfo Ferrata e la moderna genetica italiana con Adriano Buzzati Traverso e, in particolare, con l'opera di Luigi Luca Cavalli Sforza, la genetica di popolazione che ha portato ad una prima straordinaria ricostruzione dell'albero genealogico dell'umanità. La ricerca storico-medica a Pavia ruota attorno ai musei del sistema museale di Ateneo, l'istituzione che ha lo scopo di valorizzare e conservare lo straordinario patrimonio scientifico dell'università. Le ricerche realizzate a Pavia non si esaurirono con la scomparsa dei loro autori, ma spesso, in maniera carsica, ebbero l'avventura di riemergere a distanza di tempo, sotto forme mutate, permettendo di aggredire nuovi problemi e di gettare sguardi inediti su antichi enigmi. Attraverso la bellezza della storia biomedica pavese tutti possono iniziare un viaggio a fascinante che non si conclude in se stesso ma proietta nel futuro e giunge all'ambire l'epoca contemporanea in molti settori della ricerca scientifica.